In questo breve tutorial vedremo come registrarsi nell'area personale della banca dati SINAL. Questa registrazione ci permetterà di salvare le ricerche effettuate all'interno della banca dati. Dall'home page di SINAL clicchiamo sul pulsante in alto Sign In e quindi in basso su Create One Now. Compiliamo la schermata con i dati richiesti, il nostro nome, il cognome e un'email a cui desideriamo ricevere i messaggi di alert. Confermiamo l'email e scegliamo uno username. Poi creiamo una password facendo attenzione alle condizioni richieste, almeno 6 caratteri, almeno un carattere numerico, almeno un carattere speciale e non deve contenere username o email. Confermiamo la password e scegliamo una domanda segreta e una risposta segreta nel caso avessimo bisogno in futuro di rigenerare la password. Poi acconsentiamo al trattamento dei dati personali e clicchiamo su Continuo. Il nostro account è stato creato con successo. La prossima volta potremo autenticarci direttamente cliccando sul pulsante Sign In, inserendo le nostre credenziali e cliccando nuovamente su Sign In. Dal nostro nome che compare in alto possiamo verificare di essere autenticati.